Buongiorno e bentrovati a SkyPG24 Business. Partirei dall'asta di titoli di Stato che è stata proprio poc'anzi. Come sapete il governo va in asta quando si deve indebitare, quindi vende i suoi titoli di Stato per ricavarne del denaro con cui paga le sue spese e offre ovviamente un tasso di interesse. La novità positiva di oggi è che per l'asta dei bot a sei mesi il tasso è stabile allo 0,215%. Ma andiamo a vedere anche come si stanno comportando le borse quest'oggi. Lo facciamo come di consueto con il nostro Moria Longo in collegamento dal Sole24ore. Moria, bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Le borse sono positive. Sulla scia di Wall Street di ieri, per la decima volta nel mese di novembre, ha registrato il nesimo record storico. Oggi le borse europee in scia sono tutte positive. Il motivo per cui sono positive è perché aspettano con ottimismo questo accordo tra Stati Uniti e Cina che sembra possa arrivare. Un accordo commerciale che inizierebbe a ridurre comunque questa contesa commerciale che ha messo grande pressione sui mercati. Questo è il motivo dell'ottimismo. Questo è il motivo per cui le borse salgono. Adesso bisogna vedere se l'accordo arriverà davvero e se sarà come tutti si aspettano. Ecco Moria, infatti la questione d'Azi è evidentemente molto importante. Tra l'altro vedevo oggi la risposta di Pechino a Hong Kong. Come sapete, ha detto che questi risultati elettorali sono stati un po' falsificati dalla propaganda. Quindi Pechino non ha preso proprio bene il risultato elettorale di Hong Kong. Moria, rimane con noi perché adesso apriamo uno spazio. La puntata di oggi sarà dedicata agli NPL. Gli NPL, tanto detestati e che comunque tanti problemi hanno creato, in Italia soprattutto alle nostre banche, lo facciamo con una serie di approfondimenti da adesso fino alla fine del nostro giornale. In studio qui con me Paola Baruffi. Grazie per essere qui Paola. Grazie a te. Che hai curato per noi un reportage proprio dedicato a questo. E da qui vorrei partire, di modo che anche Moria possa ascoltare il tuo servizio. Perché sostanzialmente, immagino, sia molto difficile intervistare degli imprenditori, delle persone che in qualche modo sono state protagoniste di crediti deteriorati. Perché è sempre molto difficile ammettere che uno sta facendo debito e che questo debito è impagato. Esattamente. Il punto è proprio questo. Perché dietro a ogni NPL c'è un debito che non è stato onorato. E dietro a ogni debito che non è stato onorato c'è un momento di difficoltà di una persona che magari ha perso il lavoro, di un imprenditore che si è trovato in difficoltà appunto e che ha smesso di pagare le rate. Le rate di qualsiasi cosa possono essere quelle dell'automobile, della lavatrice, possono essere le rate del muto di casa. Noi abbiamo trovato Cristiano che ha accettato di parlare con noi perché la sua storia è andata in un certo modo a lieto fine. Perché Cristiano aveva un problema con il muto della casa e aveva smesso di pagarlo. La casa era già stata pignorata e sarebbe andata all'asta di lì a poco, ma lui si è rivolta dai professionisti che si occupano proprio di questo nella vita, di gestire questo tipo di situazioni. Quindi queste persone sono in grado di parlare con il creditore e magari di trovare anche un accordo. Così è andata, Cristiano è riuscito a salvare la situazione perché ha potuto vendere la casa prima che andasse all'asta e con questa cifra che ha preso ha ripagato il suo creditore e si è perfino avanzato una piccola cifra che l'ha aiutato a ripartire. Quindi questa storia che cosa ci dice? Ci dice due cose. Intanto che la situazione anche in momenti in cui si è sopraffatti, si crede di essere sopraffatti dei debiti, non è sempre perduta perché se per esempio questo debito è garantito da un immobile, allora un accordo con il creditore in molti casi si può trovare. In questo caso tra l'altro era garantito appunto. E questo è un caso specifico perché giustamente come dicevi tu prima, anche quando tu ti rivolgi a un intermediario, un operatore, per quanto esperto, non può salvare tutto facendo miracoli. Può salvare il salvabile. In questo caso è successo. L'altra cosa però interessante Paola è che la verità sta sempre nel mezzo. Certo, perché noi che facciamo questo lavoro sappiamo che ogni medaglia ha un'altra faccia. E l'altra faccia è che tutti noi abbiamo i nostri risparmi nelle banche. Quindi più la banca si ritrova a fronteggiare situazioni di questo genere, più il problema non è solo della banca, ma diventa anche un problema nostro che appunto lì abbiamo custodito i nostri pochi o tanti risparmi che siano. Certo, e l'altra cosa è che ovviamente la banca poi il suo dovere è quello di prestare dei soldi. Quindi comunque evidentemente il credito inesigibile è un problema ovviamente anche per la banca. Infatti è tutto molto chiaro nel tuo servizio che adesso vedremo, perché poi da qui partiremo. Sentiamo quindi nel racconto di Paola Baruffi la storia di Cristiano. Sentite. Diciamo che c'è stato un paio di problematiche nella mia attività professionale, le sono trovato in un momento dove ho dovuto fare certe scelte e la banca non mi ha seguito, perché come dicono tutti la banca ti dà l'ombrello quando c'è il sole ma te lo tira via quando inizia a piovere. La difficoltà sul lavoro si è poi trasformata in difficoltà a pagare le rate del mutuo per la casa e qui iniziano i problemi, non solo per chi come Cristiano smette di onorare un debito e rischia di perdere quello che ha, in questo caso la casa, ma anche per la banca, che ti toglie l'ombrello perché i soldi che ti ha dato non li rivedrà più indietro e quindi deve limitare i danni. Il debito quanto era? Il debito era un debito importante e bergerà superiore ai 400.000 euro. Il bilancio di una banca è fatto di tante cose, tra cui anche i soldi che ha prestato in giro e che i debitori smettono di pagare. Tecnicamente si chiamano NPL, Non Performing Loans, cioè crediti deteriorati. Anche più ignorandoti la casa, la banca sa che non rientrerà mai dei soldi che ti ha prestato. Come risolve il problema? Impacchetta tutti i crediti deteriorati e li toglie dal suo bilancio. La banca non si tiene il debito se non per pochi mesi. La banca vende il credito per una cifra inferiore al valore iniziale. Un credito di 100 euro può essere ceduto a 10, 20, 5 o 80. Dipende. È un mercato, è un mercato come tutti gli altri. Dipende molto se sono crediti garantiti, garantiti dai mobili o semplicemente sono dei crediti chirografari. Cioè se l'unica garanzia è la firma del debitore. Quando però chi ha comprato il debito va a chiedere i soldi al debitore, non gli chiede il 20, il 30%, continua a chiedere la cifra dovuta? Anzi, va a caricare le spese, quindi il debito aumenta sempre. Se però chi ha comprato il debito capisce che l'intera cifra non l'avrà mai, allora può scendere a patti. Esistono delle pratiche che si chiudono senza risparmiare un euro, esistono delle pratiche che vengono stralzate al 90%. Cristiano, rivolgendosi ad avvocati specializzati, è riuscito a vendere la casa anche se era pignorata e con quei soldi ha pagato il creditore che si è accontentato di meno di 300.000 euro, anche se il debito era di circa 400.000 euro. rinnegoziando il credito. Ci li ha rimasti la banca? Sì, diciamo non è elegante da dire, però insomma alla fine è andata così. E da qui ripartiamo. In studio mi ha raggiunto Alberto Sondri, Executive Director per CRIF, Credit and Servicing. Grazie per essere qui Alberto. Grazie a voi. Siamo in collegamento anche con Moria, che conoscerai benissimo. Moria, a lungo del Sole 24 Ore. Moria, cosa pensi di questo servizio? Fa sorridere che alla fine ci abbia rimesso la banca nel caso di Cristiano. Ma nella realtà la banca ci rimette molto prima della sua vendita della casa. Le banche e il credito, quando il credito diventa deteriorato, le banche per obbligo di legge, adesso tra l'altro l'obbligo dato dalla Banca Città Europea, sono molto stringenti. Dopo un tot tempo deve svalutare questi crediti in bilancio, quindi deve già perdere. Ci sono crediti che dopo tre anni, crediti senza garanzia, dopo tre anni la BCE impone alle banche di svalutarli a zero. Quindi prima ancora che la banca magari vada a contattare il debitore, quel credito va già a zero. Quindi la banca l'ha già perso tutto. Quindi la banca sicuro ci perde, è per quello che le banche soffrono. Il problema qual è? Il problema è sia quando la banca vende, sia quando la banca tiene il credito deteriorato per sé, è trovare un accordo con il creditore, il debitore scusate, quindi il signore che avete visto, e tanti signori come lui che purtroppo si torna in questa situazione, trovare un accordo per fare in modo che da un lato la banca possa recuperare quello che è possibile recuperare, dall'altro canto però che quella persona non venga strozzata. Bisogna trovare un equilibrio. I professionisti che lavorano, come in tante società di gestione dei crediti, che lavorano su questo settore, questo fanno. Cercano di trovare un accordo in modo che io ti devo 100, facciamo uno stralcio, oppure facciamo a rate e troviamo un modo per arrivare a una cosa che per il debitore è pagabile, per il creditore è accettabile, considerando che ci ha già perso dei soldi. Questo è l'obiettivo. Io dico sempre che dietro i 200 miliardi di crediti in sofferenze che prima avevano le banche e ora hanno venduto, ma sono sempre in Italia, e 350 miliardi di crediti deteriorati in generale, ci sono sempre dietro imprese, famiglie, le imprese hanno lavoratori che hanno famiglie, insomma è un mondo che sta ingessando, congelando un pezzo di Italia, un pezzo gigantesco d'Italia e per questo va risolto in fretta appunto con accordi. Non bisogna aspettare di tirare le cose alle lunghe, che poi uno resta sempre lì, aspetta e non può avere più credito da altre banche, rimane ingessato. Bisogna prendere il toro per necorna e trovare un modo per gestire questo problema con la soddisfazione da un lato minima delle banche, ma anche senza strozzare la gente che giustamente può avere difficoltà a pagare, ma rimangono sempre persone che vanno aiutate, che poi tornano nel mercato produttivo e possono portare avanti questo paese. Esatto, anche perché come sai bene sono due come dire le definizioni. La prima appunto è NPL, quindi come dire è un credito che sostanzialmente probabilmente io non vedrò mai più. L'UTP è un credito, vi faccio un esempio, se uno di noi non riesce a pagare il mutuo per un mese, quella banca non riceve la rata per un mese, però magari poi, il mese dopo, riusciamo a ripagarla. Quello è un UTP, quindi si ha la speranza di poterlo recuperare. Però io con lei Alberto partirei da questo cartello, perché vorrei anche che fosse chiaro a casa quali sono gli attori di cui parliamo. creditori originari, quindi la banca, gli acquirenti di crediti che sono originati da altri, quindi l'acquirente di un credito che la banca non riesce più ad avere indietro e che appunto è stato originato dalla banca, e poi voi Alberto siete i terzi, società che gestiscono questi crediti per conto dei primi due. Quindi che cosa fate in termini semplicissimi? Cerchiamo di coadiuvare il dialogo tra banca, creditore originario, oppure investitore nuovo titolare del credito e il debitore. Coadiuvare il dialogo significa cercare di trovare delle soluzioni di tipo stragiudiziale, quindi evitare il più possibile il ricorso al giudice, proprio perché anticipare i tempi di recupero ed evitare il ricorso al giudice spesso va a beneficio di ambo le parti, la banca o l'investitore e il debitore che ha contratto appunto questo problema. Ecco, e adesso però veniamo al succo, perché è comunque la situazione degli NPL. Io voglio capire, partendo da questo grafico che ho proprio realizzato in collaborazione con voi, questi sono i dati, crediti inesigibili, quindi i cosiddetti NPL, che lo dico a beneficio di chi ci segue, trovate anche di solito come NPE, sono crediti deteriorati e UTP. Quindi noi al momento, nel 2019, abbiamo la situazione intorno ai 163 miliardi, corretto? Sì, 163 miliardi. Spieghiamo questa cifra bene. Assolutamente. Allora, intanto quando si parla di non-performing exposure, le categorie sono tre qua, vengono rappresentate le due più critiche, cioè gli unlikely to pay, inadempienze improbabili, e gli NPL o bad loans, le sofferenze. Dal grafico cosa si evince? Si evince che la crisi economica, l'ultima, la recente crisi economica, ha lasciato in generale al sistema bancario internazionale un fardello, che sono i crediti deteriorati e quindi i crediti, diciamo, inesigibili, molto importante. Lo vedete nella crescita della dimensione di questo importo, che è espressa in valore nominale, quindi in termini di miliardi di euro. Dal 2010 al 2015 abbiamo raggiunto un picco di 342 miliardi di euro. Molto importante ragionare sul rapporto tra questi 342 miliardi di euro e il totale dei prestiti erogati da banche verso famiglie e imprese. Considerate che in quella fase, in quel momento, per ogni 100 euro di prestiti erogati dalle banche, 17 avevano le criticità prima descritte, cioè 17 avevano problemi significativi di ripagamento. Quindi capite che effetto questo può avere sui bilanci di una banca, anche in considerazione dei tassi di interesse. Guardiamo anche il secondo grafico, perché queste sono le cessioni dei crediti deteriorati, ovvero, spieghiamolo bene, la banca, che cede i suoi crediti deteriorati a parte terza per liberare i propri bilanci da questi crediti deteriorati, che non rivedrà più indietro. Allora, dai 342 miliardi, come si è arrivati ai 163 del primo semestre del 2019? Si è arrivati anche per mezzo di operazioni straordinarie, come la cessione dei crediti. Che significa cedere un credito? Significa cederne la titolarità. La titolarità di questi crediti è passata dal bilancio bancario al bilancio di operatori terzi. Principalmente sono fondi di investimento e banche specializzate nell'acquisto e nella gestione di questo tipo di crediti. Il problema però non si risolve, nel senso che il debito rimane, l'estinzione del debito è qualcosa che va al di là della cessione. Quindi si è passati da 343 a 163, ma dalle nostre stime ancora oggi di quei 340 miliardi sono in circolo e quindi in gestione presso fondi o banche almeno 300 miliardi di euro. Quindi in circolo, in questo momento, tra banche e fondi ci sono 300 miliardi di euro di NPL. Il tuo parere Moria relativamente a questo? Pensi che sia comunque una cifra che preoccupa? Perché da una parte abbiamo un calo che comunque è significativo, hai visto insieme a noi il grafico che abbiamo proposto poco anzi. Dall'altra parte però, insomma, non sono pochi, non sono pochissimi. Questo che cosa significa? No, abbiamo pulito i bilanci delle banche, ma non abbiamo pulito l'economia italiana. Il problema resta tutto qui. Questi 340 miliardi sono una zavorra per l'economia italiana, perché è una persona che ha ancora un debito in sofferenza, che è debitore, non può avere altro credito. Ci sono tutta una serie di problematiche, le imprese restano in difficoltà, falliscono, sono già fallite, comunque diventa tutto più difficile far ripartire l'economia. Quindi è un problema da affrontare. Il problema qual è però? Che come avete visto dal grafico, i crediti in sofferenza sono aumentati enormemente negli anni della crisi. C'è stata una crescita violentissima, fortissima. E le banche non avevano le strutture per gestirli questi crediti. Hanno venduto questi crediti, ma anche i soggetti che li hanno comprati, che molto spesso sono soggetti ex bancari che sono stati poi a loro volta venduti, anche loro non hanno le strutture sufficienti e adeguate per gestirli. Questo è uno dei veri problemi. Il problema qual è? Che se non ci sono le strutture adeguate per gestire questi crediti, e quindi chiamare tutti i piccoli e grandi creditori e trovare un accordo per ristrutturarlo, come giustamente diceva, trovare un accordo stragiudiziale, il problema qual è? Che il credito resta lì, a volte resta lì anche per molti anni, e questo continua a gravare sull'economia. Il problema vero quindi è l'incapacità, non l'incapacità, ma una struttura non ancora adeguata per risolvere un problema così grande, che è cresciuto così in fretta e nessuno se l'aspettava. Questo è il vero problema. Finché non si risolve questo problema, l'economia italiana difficilmente potrà ripartire, a prescindere che se questi crediti sono nei bilanci delle banche o nei bilanci di qualcun altro. Certo, concordo pienamente con quanto dici. Ti ringrazio per essere rimasto con noi, Moria, fino ad ora. Ci ritroviamo in settimana per business e ti ringrazio ancora. Alberto, proseguo con lei invece il discorso, perché ci sono altri due grafici interessanti che voglio mostrare a chi ci segue da casa, per andare un po' anche più in modo approfondito. Abbiamo capito che nel sistema Italia, al di là delle banche, in gestione ci sono ancora 325 miliardi di euro di NPL. Quindi la domanda che io mi faccio, ed è questa, quando si risolve un credito deteriorato, io qui ho provato a sintetizzare nel cartello, solo tramite il risanamento del debito, oppure tramite quello che diceva lei, una sorta di patteggiamento, è corretto? In corretto. Allora, ci sono due vie per risanare e quindi estinguere un debito e dipendono sostanzialmente da che stage di insolvenza questo credito ha. Per gli Allagri2Pay è possibile risanare il debito non solo attraverso il recupero crediti, quindi il rientro dell'insoluto, ma anche attraverso una ristrutturazione del debito stesso. Quindi, ad esempio, le banche possono agire nei confronti delle imprese che hanno contratto questo debito e che arrivano a questo livello di criticità, ristrutturandone il debito o eventualmente rifinanziandolo per renderlo più sostenibile e non rendere solo sostenibile un piano di ammontamento o un piano di ripagamento, ma anche in maniera diretta o indiretta, che dir si voglia, anche mantenere in vita il business dell'impresa stessa. Per le famiglie facciamo il caso molto specifico. Infatti adesso poi andremo a dare anche qualche dato, anzi lo possiamo dare subito? Sì. Perché quello che lei mi ha detto prima di preparare la puntata, perché abbiamo capito che in banca ci sono ancora 168 miliardi di euro. L'80% di questi crediti che la banca ha erogato e che non le sono stati restituiti riguardano le imprese. Di queste oltre il 50% pensate si è indebitata superando il milione di euro. Abbiamo messo tra parentesi, sempre grazie a lei Alberto, il 7% delle imprese attive, anche per darvi un po' una cifra che faccia capire di che cosa stiamo parlando. Guardate le famiglie, il 20% riguarda il credito che le banche hanno erogato alle famiglie. Rappresentano circa 1,5 milioni di famiglie italiane, i crediti inesigibili. Così tanto questa cifra, le devo dire, mi ha un po' stupito. In realtà questa cifra non dovrebbe stupirci troppo, perché se noi confrontiamo, partendo dai grandi numeri, il totale dei prestiti delle banche, il totale degli impieghi delle banche con il nostro prodotto interno lordo, il rapporto si aggira nell'intorno dell'80%. Quindi se circa il 9% dei crediti impiegati dalle banche sono in sofferenza o in nel likely to pay, è chiaro che questa percentuale è abbastanza approssimabile al percentuale delle persone e delle famiglie che costruiscono quel PIL. Quindi il fatto che il 7% delle imprese abbia questo tipo di problema è strettamente connesso al fatto che il 9% degli impieghi bancari si trovano in questa situazione di deterioramento. Stesso di casi per le famiglie. È come se fosse un cane che si morde la coda. Infatti sono contenta che ne parliamo, perché è giusto anche capire che non è una cosa astratta questo NPL, riguarda un po' tutti. Ecco, se posso aggiungere un riferimento, questi numeri si riferiscono ai 163 miliardi delle banche. 163 miliardi che sono rimasti in pancia alle banche. Proviamo ad immaginare questi numeri rapportati ai 320 miliardi. Si raddoppiano. Quasi si raddoppiano. Quindi a livello socio-economico è assolutamente da attenzionare questo tema. Certo, perché abbiamo capito che questi crediti che le banche non hanno visto più restituiti non riguardano più solo loro, ne hanno in pancia appunto ancora da smaltire 168 miliardi, ma tutto il sistema italiano. Alcuni non sono più in pancia delle banche, ma del resto del sistema. Faccio vedere solo queste due grafiche prima di chiudere. Le cause degli NPL sono attribuibili sia ai creditori, i processi di erogazione delle banche dovrebbero essere più efficaci, lo spiegava bene Moria, sia ai debitori, il miglioramento nella programmazione. Alberto poi mi spiegava che è in corso una riduzione progressiva del tasso di fallimento delle imprese. 5,8% tasso di fallimento delle imprese, apice della crisi, 3,7% fine 2018. In una battuta, se vuole concludere, perché non ho più tempo? Sì, diciamo che il problema di riduzione degli stock NPL dipende da due fattori. Ridurre il tasso di ingresso in nuovi non-performing loan e migliorare le capacità di gestione di questi non-performing loan. Quindi aumentare il tasso di risoluzione e ridurre i tempi di risoluzione. In questo momento le imprese e le famiglie devono attrezzarsi per migliorare la programmazione economico finanziaria. Anche il legislatore sta andando in questa direzione, grazie alla nuova legge sulla crisi di impresa. Più in generale, lato prenditori, è necessario che ci sia più consapevolezza finanziaria, lato creditori. Chiaramente è necessario che ci sia più efficacia nei processi di erogazione. Perché, come spiegava bene lei, è una medaglia che ha due facce. Le responsabilità e ovviamente le colpe sono sempre di entrambi. Non c'è mai un'unica verità. Quando il problema è così gigante, soprattutto. Posto che tutto ciò è partito dagli Stati Uniti. Ricordiamolo sempre. Allora, prima di chiudere, io lancerei anche l'intervista realizzata dal nostro Marco Congiu all'amministratore delegato di Enel Starace. Perché Enel ha abbracciato questa politica verso le energie rinnovabili, che va verso la decarbonizzazione. Sentite cosa ha detto. La sostenibilità ambientale è sempre più una priorità internazionale, perfino negli Stati Uniti, fino alla Commissione europea e al governo italiano che ha lanciato un ambizioso programma che si chiama Green New Deal. Che cosa ne pensa? Che cosa vi aspettate? E quale contributo è chiamata a dare Enel? Penso che sia ora che finalmente ci si concentri un pochino su questo tema. È evidente che c'è un problema climatico che ci sta un po' scappando di mano a tutti. Ed è chiaro che noi come società che lavora nell'energia elettrica abbiamo un grande ruolo. Il ruolo è quello di fare presto a decarbonizzare l'energia elettrica che produciamo. Quindi il discorso che abbiamo fatto un attimo fa. Fare presto a portare questa energia a disposizione di tutti al prezzo giusto, quindi basso. Fare presto a favorire l'elettrificazione e l'efficientamento degli usi finali dell'energia. Non solo pulire l'energia, ma anche consumarne di meno a parità di lavoro. Quindi essere più efficienti. Cosa che adesso si può fare digitalizzando molto i sistemi. Quindi il nostro sforzo è oltre che decarbonizzare e farlo in maniera socialmente sostenibile, anche digitalizzare. Cioè porre a disposizione degli utenti finali modi più intelligenti di utilizzare l'energia. Senta, oggi lei ha in almeno un paio di occasioni sottolineato la necessità di essere geograficamente presenti in più mercati, di crescere. Dopo quella di San Paolo avete altre acquisizioni all'orizzonte e quali mercati vede più interessanti? Diciamo che noi ci cerchiamo di vedere le grandi aree metropolitane del mondo, come la zona in cui queste due cose che ho appena detto, la digitalizzazione e l'uso efficiente dell'energia, riescono ad avere un impatto immediato. Quindi grandi città dell'America Latina ormai le abbiamo tutte. Altre grandi città del mondo ci sono e chiaramente guarderemo tutte le volte che questo tipo di opportunità si manifesteranno. Purtroppo quando si tratta di fare queste cose ci vuole uno che vende e uno che compra. Uno che compra e basta, da solo non può fare granché. Ebbene, così concludiamo questa puntata di Business. Grazie ad Alberto Sondri per essere stato con noi da CRIF. Vi lascio alla TG Edizione delle 12 con in studio Caterina Baldini. Noi ci vediamo più tardi.